Mi chiamo Vittorio Alfieri e ho 29 anni e frequento come utente di servizio di abilitazione di Grottari. Adoro lavorare con i cani e vi da me presento questo video fatto con le foto che mi ritraggono durante l'attività insieme ai miei amici. Ognuno di noi si è collegato con la sua pasta, caricando le foto e mettendo una valutazione personale da una a cinque stelline. Una cosa molto importante del sito è lo scambio di amicizie con altri ragazzi esterni all'UTR stesso.